La Bognotti ieri sera mi ha fatto bene tantissimo e io stanotte non sono riuscito a dormire. Sono arrivati gli adesivi di uno degli spettacoli che potrete vedere martedì, il mio per la precisione. Vuoi dire qualcosa su Ormai Shit? No, dice tutto da solo. Comunque io e Veronica Bognotti come Chiara Ferragni e Fedez. In Riva ci trattiamo benissimo, passa allo squoglio. Domani faremo la performance. Come si chiama il posto? Mira Lago, volantini fatti da praffro, le grafiche, abbiamo gli uccellini, l'anguria, abbiamo il lago, questa è la cartuglia degli anni 90. Sembri, una conduttrice di linea verde. Linea blu facevano sempre vedere l'isola d'Elba. Alla sede dell'assistodance è sempre più bella, è sempre più grande, è sempre più chic, è sempre meno punk. Meno male che sono arrivato io a portare un po' di punk. Va bene dai. È mia. Tempo e poi fa... E quindi qui deve essere alta la musica. Si riabbassa e dico... Bello, ciò per te. Voglio un vistico. Allora, Chiara, sei molto bella in video. E poi sei ancora più bella con questo cervelluomo attaccato alla tua giacchetta. Certo, certo. Sì. Ann Reach着 Heeded. Ciao. Ciao.